e ciao ragazzi ben ritrovati all'interno di questo nuovo video di stumbleguiz il vapor torna torna sempre più forte perché oggi si parla di help and support aiuto e supporto oggi andiamo a chiedere aiuto una piccola challenge come avete lanciato voi a stumble guys non vedo l'ora di sapere cosa può succedere da questo aiuto restate sintonizzati fino alla fine del video perché ragazzi ne sono successe delle belle abbiamo trovato la skin speciale non so se avete trovato avete visto il video lo trovate qua nelle scades cliccabili una roba assurda mi è successa non so minimamente come si sono allineati gli astri ma si sono allineati penso in modo positivo perché la skin speciale è di nostra proprietà e quindi gg a noi stavamo proprio andando a criticare questa caspita di offerta che c'è mistica di 25 euro con questa skin speciale inclusa ecco stumble guys ecco qua la dynamitron la nostra skin speciale ottenuta recentemente in realtà poco recentemente perché risale ad un po' di tempo fa ma comunque sempre bella bella fresca oggi andiamo oltre a fare un po' di robette voglio andare a provarla con voi quindi la andremo a provare e poi andremo a fare il dynamitron andiamo a fare il aiuto and support ok voglio andare a chiedere aiuto a quelli di stumble guys perché sinceramente ho bisogno di un'ambulanza dopo quello che mi è successo dato che sto pre-registrando questo video subito dopo aver trovato questa skin questa skin speciale ragazzi io mi sento male mi sento mi sento male cioè ho trovato laggato tutto ho trovato la skin speciale porca ragazzi porca lorca tre secondi lagga tutto non un lag un lag in mane anche per junglerul il lag in mane anche per junglerul ma il vapor torna il vapor torna bello potente cerca di saltare almeno la prima parte fangosa riesce a saltare in a grandi linee il tutto fa un po' di saltetti un po' di salti un po' balordi e adesso qua subito sulla sinistra non voglio averte no ti prego mi ha tirato veramente lu calciu mi ha tirato veramente lu calciu ti prego sta in piedi sta in piedi santo il belin ok non rischiamo troppo e gg qua ce la qualifichiamo nel chill in teoria dovremmo essere oh ma che mi tirino i pugni balordo mi tirano i pugni qua a me ragazzi su sto gioco ormai cioè quando ho trovato la skin speciale sono diventati tutti più cottivi con me sono tutti che rosicano volevo abbracciarti pure non mi hai fatto abbracciare comunque ci siamo collati non male questa skin speciale è molto 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 strong subito dentro con la qual senza troppi problemi round dice round col punto esclamativo giallo io avere un attimo paura 32 rimanenti belli miei 32 rimanenti cadono cascano tutti cascano tutti una cascata una cascata totale successivo te prego voglio voglio il dropping voglio il droppings oh non mi droppa ah li morti droppami qualcosa e niente e non si droppa niente belli miei tile fall quando non droppa niente esce tile fall così così randomico quando quando c'ha la voglia quando c'ha la voglia esce il tile fall siamo in 16 che ci scontriamo per la win io mi butto su questa parte di qua ok ho trovato ho trovato un blocco verde ma porca c'ha la miseria c'ha allora te prego te prego ma non ci posso credere non me puoi far cadere adesso ma dai lag misterioso lag misterioso belli miei incredibile incredibile un lag unico però questo ci permetterà di andare sulla sezione help and support allora per favore fammi quitta da sta partita perché mi devi laggare fammi quittare fammi quittare e niente da quando ho trovato ragazzi da quando ho trovato la skin speciale è esploso il game completamente non c'è più l'idea non c'è più l'idea ragazzi non ce l'ha più non ci possiamo fare niente tutte le idee le ha perso ha perso le idee allora ci possiamo caricare grazie accesso in corso si dovrebbe caricare nel modo più veloce possibile almeno uno spera allora fammi così ho un'idea ok impostazioni andate nella sezione help and support e schiacciate il tasto apri vi porterà automaticamente in un sito a parte che è il help and support di stumbleguiz ragazzi vi posso assicurare che ne vale la pena perché ci sono un sacco di cose interessanti ci sono casi nel quale appunto abbiamo gli account cancellati che non si possono recuperare ci sono i casi nel quale vengono fatti degli acquisti o sul play store o sull'app store e automaticamente non possiamo andarli a riscuotere come il problema che c'era nel pass tempi fa li trovate nelle schede cliccabili c'è la roba che vinciamo i match ma non abbiamo ottenuto la corona questo causa la connessione insomma qualsiasi tipo di problema ragazzi lo troviamo qua all'interno di stumbleguiz nel caso però abbiamo dei problemi che non hanno risposta nel caso qua come ad esempio la possibilità di non vedere gli ads per i rewards o appunto il fatto che abbiamo fatto dei purchase e non ci sono stati addebitati ragazzi abbiamo il tasto contact support con il contact support noi automaticamente verremo trasferiti in una pagina extra che ci dirà l'email con la quale contattare se noi scriviamo un'email ragazzi a questa roba qua support.kitkagames.com automaticamente entreremo in contatto diretto con il team di sviluppo di Kitka Games che ci può dare una mano nel modo più dettagliato possibile insomma è un qualcosa di più dettagliato se la possiamo mettere sotto questo punto di vista quindi se volete vedere delle cose un po' più dettagliate delle robe un po' più studiate ragazzi contattate direttamente l'help and support e siete belli che a posto una volta fatto questo avete trovato la vostra risposta tornate tranquillamente sul vostro profilo di stumbleguiz e flexate la vostra skill speciale nel modo più chill possibile eventualmente poi andate a fare altri unboxing fare altre cose comunque spero di essere stato chiaro su come si fa a contattare l'aiuto è una cosa che secondo me ha senso fare in alcuni casi in altre magari non troppo però in generale se avete delle difficoltà un po' più dettagliate che non hanno risposta immediata all'interno del game o comunque cercate su youtube e non trovate risposta immediata bene può essere utile magari contattare questo supporto il video ragazzi termina qua spero che vi siete divertiti spero che il video vi sia piaciuto come al solito like, iscrizione e commento dato che siete arrivati fino a questo punto del video si presume che il video vi possa essere piaciuto noi come al solito tutti i giorni ci becchiamo alle 14 qua sul canale quindi in realtà l'attivazione della campanella è importante per stare aggiornati anche sulle live sui video shorts su un po' tutte le cose vi consiglio però anche di seguirmi nei vari social network che trovate qua sotto in descrizione in particolare Instagram e TikTok sono diciamo siete i benvenuti perché sono i due social che utilizzo che utilizzo più spesso quindi niente ragazzi andatemi a recuperarli che vedete un sacco di contenuti carucci commentate qua sotto nel box dei commenti con ulteriori video che vorreste vedere e noi ci vediamo domani al 14 qua sul canale con un nuovo video ciao belli miei ciao